Ok signori, è il momento di parlare degli sconti della settimana, se ho cambiato l'intro perché volevo far diventare scemo qualcuno che si aspettava la classica intro. Quindi arriviamo subito agli sconti, parlando del veicolo sul podio che è l'Entity XXR, ok? Dopodiché abbiamo soldi RP per 3 sulle gare terrestri, abbiamo soldi RP per 2 sulle casse del CEO, sulla vendita delle casse del CEO scusatemi, e sulle lotte tra business, sappiate che avete lo champagne gratis ai bar, chi se ne frega, ok? Se vi loggate vi danno un pigiama e una giacca dello smoking, ok? E dopodiché abbiamo 60% di sconto sugli uffici CEO, niente male, 50% di sconto sui magazzini casse, niente male, 50% di sconto sulle felpe import-export e i vestiti del casino, ok? 40% di sconto sull'attico del casino e sugli appartamenti di lusso, 40% su FMJ, Kuruma Blindata, Osiris, Reaper e Tempesta, e 35% di sconto sulla Ruiner. Allora, che cosa possiamo dire della settimana? Gli sconti sono molto onesti per le proprietà, per quanto riguarda i veicoli non c'è molto, anche se sono veicoli interessanti in sconto, tipo la Kuruma Blindata che piace sempre a tutti, la Tempesta resta sempre un bel macinino, la cosa bella sono gli sconti sull'attico del casino, niente male, sugli appartamenti di lusso, nel caso qualcuno volesse fare ancora i primi colpi di Leicester, e poi abbiamo 50% e 60% di sconto sul magazzino e sull'ufficio CEO. Quelli non potete perderli per nessun motivo, cioè dovete comprarli a prescindere. Vi ricordo che potete avere fino a 5 magazzini casse. Se non sapete come funziona il CEO, i magazzini eccetera, su GameGrind.it trovate la guida per quanto riguarda le casse, come far soldi eccetera eccetera, oltre a fatto che sul canale doveste trovare qualche guida, sono sicuro che ho fatto anche i video. Per quanto riguarda come far soldi, allora se volete fare una bella sfida, vi comprate 5 magazzini di casse grandi e li riempite, ci vorranno ore, 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 però potreste fare, se non sbaglio è oltre 5-6 milioni di dollari di guadagno, ma è veramente monotono, perciò dovreste farlo in compagnia. Se non siete a quel livello e volete solo fare un po' di soldi col CEO, nessun problema, vi comprate i magazzini di casse anche piccoli e medi, cominciate, pagano discretamente bene, mi raccomando non fate passare questa settimana senza aver comprato almeno un magazzino e l'ufficio del CEO, perché 60% di sconto sull'ufficio del CEO non mi ricordo recentemente, perciò è sicuramente un buon affare. Non è una brutta settimana in termini di sconti, anche se c'è poca roba in sé, quindi vi ricordo che le emissioni, la vendita delle casse, quindi avete nel magazzino il sconto, la vendita paga doppio, quindi è fuori di testa come roba. Un'ultima cosa, settimana scorsa sono uscite le 8 gare stunt nuove e ci saremmo aspettati questa settimana le nuove survival o scia mortale. Al momento non è uscito niente, perciò arriveranno nelle prossime settimane. Non è che sia roba che attendiamo con chissà quale frenesia ed emozione, però diciamo che finché non escono quelle, l'aggiornamento estivo continua ad essere più lontano. Per quanto riguarda l'aggiornamento estivo, l'anno scorso è uscito ad agosto, mentre invece fine luglio per quanto riguarda Red Dead. Ora, era periodo di covid l'anno scorso, era proprio in piena pandemia, perciò potrebbe essere stato un po' rimandato. Voi mettetevi in testa che potrebbe essere agosto, cioè se mantengono lo stesso regime, sarà agosto, se invece riescono ad anticipare, molto probabilmente potrebbe essere prima magari a luglio e Red Dead a giugno. Non lo so, non lo sappiamo, non hanno detto nient'altro, non cominciate a farvi domani esce aggiornamento, settimana prossima, settimana prossima, settimana prossima, perché a fuori dire settimana prossima alla fine si arriva veramente ad agosto. Quindi, vi ringrazio per essere rimasti con me, noi ci vediamo sempre in live, e prima o poi tornerò anche a fare video, non preoccupatevi, vi ricordo sotto in descrizione che trovate il mio sito, che è gamegrime.it, di cui ho aperto praticamente Discord, Twitch, YouTube, c'è tutto, quindi sto pushando anche quello, e nada, vi ringrazio, un abbraccio, mi raccomando fate soldi, e alla prossima, ciao ciao!